Buongiorno Rosario e buongiorno a Don Antonio Mazzi, ciao Don Antonio Ciao Peppa, anch'io ti leggo una frase ripetitiva a tutti, va bene? Ve l'ho raccontato altre volte ma è importante Non voglio grandi cose nella vita, non voglio grandi cose nella vita ma piccole cose che la rendano grande Questo è il grande progetto della nostra vita Invece noi siamo portati a avere delle grandi cose su di te e poi ci vediamo tutto Molto bella Ci sono spiegato? Molto bene, ciao Don Non è la prima volta che ve la dico, che ve lo dico ma che me lo dico, ma bisogna insegnarlo ai nostri bambini Ciao Don